Siamo con Giulio Catalani del Norba Calcio, insomma vi presentate anche voi con molto entusiasmo, con molta voglia di partire, c'è anche tuo figlio pronto a partecipare? Assolutamente sì, sia il piccolo che il grande riparteciperanno come tutti gli anni, speriamo di presentare tre o quattro squadre come l'anno scorso, senza conto entusiasmo, non vediamo l'ora, l'ambiente ci è sempre piaciuto, quindi veniamo volentieri. Che cosa ha di particolare questo tipo di competizioni rispetto a tutte le altre, quelle che affrontai durante l'anno? Il bello del Mediolanum è proprio il fatto dell'aggregazione, che comunque c'è una partita dietro l'altra, un sacco di ragazzini che si confrontano, che si incontrano, nascono amicizie, si ritrovano persone, quindi è un bel ambiente piacevole.